Tra scienza e regione si è ritenuto esistesse un conflitto insanabile, una continua tensione di cui si avrebbero ancora adesso gli effetti negativi. Ma molti storici contestano questo punto di vista. Certamente questo punto di vista ha come fondamento un caso eclatante, processo e condanna di Galilei che dal 1632-33 hanno cominciato a creare problemi a coloro che si volevano occupare di Copernicanesimo, hanno creato difficoltà agli sviluppi della scienza italiana e hanno stabilito condizioni sempre più difficili per gli scienziati della nostra penisola. Tuttavia il processo e la condanna di Galilei non colpirono in maniera mortale la scienza italiana. La scienza italiana si sviluppò in altri ambiti diversi dal Copernicanesimo, diversi dall'astronomia e cosmologia. Troviamo appunto interessanti sviluppi a partire appunto dalla metà del Seicento nella fisica, nell'ottica, nella meccanica per l'appunto, nella fisiologia e nelle scienze naturali. Questo è già un primo motivo per riconsiderare la categoria del conflitto insanabile tra scienza e religione. Ma ce n'è un secondo, ovvero gli sviluppi della scienza nei paesi protestanti. Il protestantesimo in realtà ha dimostrato che tra scienza e concezione cristiana del mondo non vi è un conflitto insanabile. Lutero e Melantone negli stati tedeschi, Calvino nella Svizzera, Francia e poi i calvinisti nel resto dell'Europa settentrionale, Paesi Bassi e Inghilterra, hanno in realtà contribuito, anche se in maniera indiretta, allo sviluppo delle scienze. Il punto è proprio stabilire in che modo il protestantesimo ha contribuito allo sviluppo delle scienze e a che tipo di scienza ha dato il maggior contributo. Su questo vorrei riflettere in maniera un po' più approfondita rispetto a quanto solitamente si è fatto. Innanzitutto il protestantesimo ha inferto un corpo mortale al principio di autorità. Sostenere la libera indagine dei testi sacri è stato un punto di vista che ha favorito la libera indagine della natura, una libertà nell'indagine filosofica di cui sicuramente la scienza ha fatto tesoro. Ma il protestantesimo ha certamente dato un'impronta ben particolare, ben precisa, allo sviluppo della scienza. Ha dato impulso a un'indagine sperimentale della natura, ovvero le teorie devono essere sottoposte a un controllo sperimentale. Nell'indagine della natura non si devono accettare sistemi filosofici, bensì bisogna procedere in maniera cauta, sottoporre le teorie al vaglio degli esperimenti e giungere a conclusioni che sono necessariamente precarie, parziali. Non hanno cioè l'ambizione di costruire un sistema totale del mondo. Questa visione della scienza, questo metodo scientifico, si basa su una visione che è tipicamente calvinista, che riduce fortemente la capacità dell'intelletto umano di cogliere l'essenza delle cose, ma nello stesso tempo apre il campo a un'indagine sui particolari, indagine sugli oggetti che possono essere studiati empiricamente e sperimentalmente. Vi è un secondo motivo che è stato sicuramente al centro della concezione protestante della scienza e che ha dato anch'esso un impulso considerevole allo sviluppo delle ricerche scientifiche e sperimentali. La cosiddetta fisico-teologi, come la chiamano gli inglesi, la fisico-teologia, che cos'è? È l'esaltazione dell'indagine della natura perché essa ci rivela gli attributi di Dio, ovvero sia attraverso lo studio della natura, dalle sue parti più piccole, dall'ultimo insetto fino al sistema del mondo, svelano la saggezza e il potere di Dio nel mondo. E allora nei paesi protestanti, soprattutto nei paesi in cui è dominante la concezione calvinistica, abbiamo l'affermarsi di questa visione della ricerca della natura, una visione che ci porta verso Dio e non ci allontana da Dio, che costituisce un elemento centrale dell'impegno di uomini di fede nella ricerca dei segreti della natura, ricerca che non allontana l'uomo da Dio ma invece deve essere perseguita perché questa svela il potere e il disegno di Dio all'interno del mondo. L'effetto fu importante in Inghilterra e nei paesi bassi, la scienza acquista una posizione centrale nella società, la scienza viene finanziata, la scienza si istituzionalizza, diventa cioè uno dei potenti impulsi allo sviluppo economico e sociale che faranno di questi due paesi, l'Olanda e l'Inghilterra, delle grandi potenze all'inizio dell'età moderna.